Il porto trafico che ha dato la scantina, come voi vedrete, apre i polini di Giuseppe. Ecco, questa mostra fondamenta della scantina. Sempre le storie. Bene, almeno l'inizio da questo. Chi è la scantina? Grazie. Sì, sì, è un territorio che mi occupa, perché è veramente un territorio che dà grandissime soddisfazioni. Non solo dal punto di vista dei bambini che sono conosciuti, ma anche nelle aree cittadini. Perché alcuni di questi vasi, e questo è un fatto raro, pensate che prima questo scavola tutto. L'acrologia, e questo è di estremo interesse, è... Grazie.